Amici di investire.biz buongiorno e benvenuti a trading turbo 24 nuovo appuntamento che ogni lunedì mattina vi porterà sui mercati finanziari internazionali proponendovi quello che è il quadro tecnico di una sottostante quest'oggi parliamo di Tesla e andiamo dunque a vedere il grafico della casa automobilistica californiana come vedete nell'arco degli ultimi mesi il quadro tecnico ha subito un tiramento non banale con la flessione sotto i supporti statici posti in prossimità alla soglia psicologica dei 200 dollari ad azione una trend discendente confermato anche da questa serie di massimi decrescenti e vedete l'altra line tracciata con i top dell'aprile del 2022 e con quelli del settembre dello scorso anno e insomma quello che è stato una parte iniziale 2023 con la risalita delle quotazioni che ha avuto come caratteristica il periodo tra gennaio e la mese di febbraio sembra arrivato ai titoli di coda una prima gamba ribassista caratterizzato le ultime settimane in qualche modo quello che è stato il mese di marzo e il recupero della scorsa settimana potrebbe a questo punto riproporre l'opportunità per entrare in vendita con un rischio rendimento congruo infatti tutta l'aria dell'intorno dei 200 dollari ad azione può essere valutata per sviluppare strategie ribassiste più conservativi possono anche aspettare una ritorno in prossimità dei 205 208 dollari per azione stop assolutamente sopra quei 217,84 e 50 dollari per azione che sono stati toccati lo scorso 16 di febbraio per quanto riguarda i target al ribasso invece un primo obiettivo in area 170 anche se il deal più grande si potrebbe compiere qualora le quotazioni di tesla dovessero riportarsi in prossimità dei 125 dollari per azione sulla piattaforma dedicata ai turbo 24 dg trovate proprio tutte le diverse declinazioni long e short per operare su tesla come vedete qui un livello di knock out che vi permette anche di individuare sul grafico molto facilmente dov'è quel valore che si è toccato anche una sola volta porta a zero il valore vostro certificato in questo caso una strategia congrua in termini di rischio rendimento e anche prezzi indicati porta a selezionare questo turbo 24 con un livello di knock out posto a 234.58 e 54 dollari con una leva 4 per un prezzo denaro lettera lo vedete 607 96 15 e 4 quindi questa strada lo strumentiamo a selezionare per quanto riguarda l'ingresso appunto a posizionarci sui 200,40 dollari per azione stop indicato i target pure per quest'oggi è tutto grazie per aver seguito trading turbo 24 ci rivediamo lunedì prossimo con una nuova operazione trading da sviluppare sui mercati con i certificati turbo 24 dg con trading a tutti voi